Una sentenza del TAR del Lazio del 2023 entra nel merito della CILAS, degli Interventi Superbonus, e quando l'immobile ha delle difformità, cosa comporta alla CILAS, o meglio, cosa potrebbe comportare nel caso in cui il Comune eserciti i propri poteri di controllo, di repressione, delle difformità, degli abusi, perché il controllo sul territorio è del Comune e applica tutte le regole che sono dettate, in buona parte, nel DPR 380-2001. È una sentenza, tra le prime penso, la prima comunque che mi capita di analizzare, su CILAS. CILAS che, in modo specifico, è stata creata, non è un titolo di dizio, in realtà è una CILA Superbonus, sembra una pratica a parte, è una CILA light, dove non ci sono alcune dichiarazioni, tra le quali quella dello stato legittimo, cioè non bisogna dichiarare che l'immobile è conforme, cioè ha lo stato legittimo, cioè ciò che è stato autorizzato, ciò che è stato realizzato, è effettivamente ciò che è stato autorizzato secondo le regole, ma questo non salva da alcuni problemi, come ad esempio non poter effettuare i lavori, come ad esempio il potere del Comune di sanzionare e di bloccare il tutto. Te ne parlo tra poco, prima come sempre, lascia mi piace, iscriviti al canale e verifica i contenuti per gli abbonati. Gli abbonati mi permettono di fare questo lavoro che adoro, al quale dedico tanto tempo, per il quale serve tanto tempo, approfondimento, analisi dei documenti, della normativa che viene pubblicata in questo periodo che sto registrando, oggi il 20 dicembre 2023. In questo periodo, fine 2023, si parla molto ed esclusivamente, per quanto riguarda gli argomenti che trattano in questo canale, della proroga del Superbonus, o meglio, della mancata proroga del Superbonus per i lavori in corso e con tutti i problemi. Ma qui arriviamo già al dopo, al dopo, al dopo, al dopo, perché quando uscì nel 2021 la normativa sulla CILAS, sulla CILAS Superbonus, ci eravamo posti tanti dubbi e comunque noi che facciamo opera di divulgazione online, noi, noi tecnici, noi che abbiamo parlato nel corso di questi anni anche del Superbonus, abbiamo messo in guardia sulla faciloneria con la quale la CILAS Superbonus avrebbe superato tutti i problemi delle difformità, degli abusi, no? Che erano un problema, e sono ancora un problema per i bonus edilizi, però siccome il Superbonus era un 110 corposo e potente, con tanti controlli e tanti rischi, allora lì si sono resi tutti conto che un cornicione un po' più alto, un po' più basso, sarebbe stato un problema. E allora tutti sotto per sanare, allora visto che non si poteva sanare, ecco qua la CILAS Superbonus, che non ha risolto nulla. Probabilmente nelle premesse dell'invitarti ad abbonarti a questo canale mi sono perso e ho ricominciato a parlare... Vabbè, il fatto qual è? Un condominio aveva presentato parallelamente una CILAS e una SCIA in sanatoria per correggere alcune difformità, per sanare alcune difformità, mi perdonerete se non utilizzo i termini esatti. La SCIA, secondo il Comune, era incompleta, avevano richiesto delle integrazioni per poter definire la sanatoria. A quanto pare non è stata integrata, quindi la SCIA è stata resa inefficace, la CILAS collegata è stata dichiarata inammissibile con l'intimazione da parte del Comune di non procedere alle opere e di... ho sintetizzato molto le tante pagine della sentenza... l'intimazione di non procedere con le opere, anzi di ripristinare ciò che era stato realizzato. Perché di base, al di là dei bonus, non si possono effettuare i lavori se l'immobile non è conforme. Se l'immobile ha delle riformità, se l'immobile ha degli abusi, non si possono effettuare dei lavori sugli abusi. Perché significa andare ad agire su qualcosa di illegittimo. Questo trasferito nei bonus significa non poter applicare i bonus. Questo vale per qualsiasi bonus. Bonus 50, sisma bonus, eco bonus. Superbonus ha reso tutto questo, molto mainstream, ha sensibilizzato tutti. La CILAS sembrava avesse risolto tutti i problemi, ma questa sentenza ci batte sul tempo. Il condominio, ovviamente, a fronte delle azioni del Comune, ha fatto ricorso al TAR. Tutte le motivazioni che sono state adotte, eccetera, eccetera. Il TAR ha detto no, il ricorso non può essere accettato. Perché? Ce ne sono tanti di perché. Il fatto che comunque l'inammissibilità e l'improcedibilità della CILAS non permetta di effettuare dei lavori di ristrutturazione. Comunque anche superbonus. Il fatto che ci sono delle difformità vieta impedisce di fare delle lavorazioni di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, ordinaria, quelle che sono. Oltre che mancavano anche degli elementi sostanziali della documentazione all'interno della CILAS, così come della SCIA che non è stata integrata, documenti progettuali, dichiarazioni addirittura false, a quanto sembra inerenti alla presenza di vincoli, alle necessità di nulla osta. Ma il nodo principale è sulla CILAS. Perché la CILAS che non necessita dello stato legittimo, la CILAS che è un derivato light della CILA, un CILA che non ha le stesse regole di controllo così schematizzate, così regolamentate come la SCIA o come il permesso di costruire. Ma comunque il TAR, sotto linea, che non esclude tutto questo, anche se la CILA, e quindi la CILA Superbonus, non sottostà le stesse regole di controllo e le stesse procedure degli altri due titoli, non significa che il Comune non possa procedere con la repressione e con il controllo sul territorio dal punto di vista urbanistico edilizio. Al Comune restano i poteri di vigilanza, il Comune può bloccare preventivamente, in corso d'opera, i lavori anche Superbonus, anche autorizzati con la CILA Superbonus. E finché questi non vengono sanati, non si può procedere con gli interventi. Il problema qui è stato proprio questo. Le due pratiche presentate parallelamente non è stata definita la pratica SCIA per sanare il tutto. Per la sanatoria non c'è il silenzio a senso. Anzi, in modo esplicito, per avere un titolo in sanatoria bisogna che il Comune si esprima in modo attivo. Il motivo principale è che non si possono effettuare lavori su opere con difformità, su immobili con difformità o abusi. Ti vado a leggere un passaggio, secondo me, importante. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1 settembre 1967. Uno dei contenuti principali, dei pochi contenuti richiesti nella CILA per evitare di perdere il superbonus, è appunto indicare il titolo che ha autorizzato la costruzione dell'immobile o se non c'era il titolo se è stata avviata prima del 1 settembre 1967. Se non c'è questa indicazione, addirittura non c'è il requisito minimo e si perde automaticamente il superbonus. Ma già questa è la richiesta senza la necessità di attestare lo stato legittimo. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo, di cui è l'articolo 9 bis comma 1 bis del DPR 380 2001. Vanno dunque interpretate, qui parla il giudice, nel senso che in seve di presentazione della pratica per fruire del superbonus non deve essere asseverato lo stato legittimo dell'immobile. Ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di quella normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti dirizi commessi sugli immobili. Che significa? Significa che sì, normativamente, la pratica in sé per sé prevede che venga presentata in quel modo senza l'attestazione dello stato legittimo. Ma l'immobile deve essere legittimo. Non è che il non dover dichiarare significa che l'immobile può non essere legittimo. E qui, diciamo, c'è stata una mancanza del legislatore. Come sempre accade quando la legislazione può essere interpretata o ci sono delle falle, entra in questo caso il tar, il giudice, che definisce e colma quelle parti che bisogna interpretare. Perché la CILAS prevede che non venga dichiarata. Ma il fatto che non debba essere dichiarata non significa che l'immobile possa essere privo dello stato legittimo. L'immobile deve essere sanato se ha delle riformità. E la sanatoria, come ti ho accennato prima, non avviene tramite silenzio assenso. Anzi, il silenzio è un diniego. Questo viene riportato anche nella sentenza del tar. Quindi cosa sta succedendo? Ci stiamo avviando verso una fase su tutto quello che riguarda il super bonus e la presentazione delle pratiche. E tutta quella parte inerente alle riformità che tanto ci ha fatto discutere. Perché chi mi segue da tanto tempo lo sa che ho realizzato tantissimi video. C'è chi la vedeva tutta risolta. C'è chi invece era un po' più scettico. Io, come sempre, nei miei video ho sempre detto nel dubbio che stare sempre un passo indietro. Se c'è coscienza di una difformità sana la prima, non attendere, non avviare i lavori senza sanare le opere, perché non sappiamo poi come verrà interpretato tutto questo. Ed ecco le prime interpretazioni. Non è detto che questo metta una pietra definitiva sopra la questione. Potrebbe addirittura arrivare qualche sentenza che va contro a questa che abbiamo appena analizzato. Comunque sia, è un precedente importante che ci fa capire quali erano e quali sono i rischi legati ai bonus edilizi e alla troppa falcino d'ordineria. Perché qual'era il problema? Uno dei problemi principali è che i tecnici che correttamente andavano a fare delle verifiche, si accorgevano delle difformità e suggerivano di effettuare delle sanatorie prima di effettuare i lavori e venivano tacciati come disfattisti, come perdi tempo, mi hanno fatto tirare fuori dei soldi inutilmente. Alcune addirittura non volevano nemmeno fare le sanatorie perché non sono agevolabili, sono delle spese in più, ma chi se ne accorge? E invece, come quasi sempre accade, quello che fa più attenzione è quello poi che ti dava quel suggerimento che ti avrebbe salvato dai problemi. Quelli invece tutti faciloni che andiamo avanti, non c'è problema, tanto non succede nulla, non succede nulla, virgola. Ora, qui è successo tutto in corso d'opera, ma il potere di controllo con tutti i documenti che ha il comune in mano, visto che la CILAS, per essere conforme, deve contenere poi gli architettonici perfettamente corrispondenti allo stato dei luoghi, hanno di fatto il rilievo dello stato attuale da confrontare immediatamente con ciò che è stato autorizzato in comune. Hanno tutto a portata di mano, quando vogliono e se vorranno fare cassa. Ti ringrazio di essere arrivato fin qui, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, lascia mi piace se ancora non l'hai fatto, ci vediamo al prossimo contenuto.